Sul fatto che sia opera di uno o più lupi non sembrano esserci dubbi. Due capre sgozzate all'Alpeguancio nella zona del Quagione. L'episodio è avvenuto nel fine settimana. Una capra è stata trovata cadavere, una seconda è tornata alla stalla in condizioni gravissime, di una terza si sono perse le tracce. Mia suocera racconta Luisella Fioreottoni a 89 anni e da sempre ad aprile a novembre si trasferisce in montagna. Tutte le sere lascia libera di pascolare le capre, in tale una quindicina. Gli animali poi puntualmente fanno ritorno alla stalla. Sabato sera tre capre non sono tornate e il giorno seguente siamo andati a cercarle. Una l'abbiamo trovata totalmente sgozzata con morsi su tutto il corpo. Una seconda l'abbiamo ritrovata in condizioni gravissime con morsi a gambe, torace e senza un occhio, mentre della terza abbiamo perso le tracce ed è verosimile che sia stata anch'essa sgozzata. Non si erano mai verificati episodi del genere. Per evitare altre perdite abbiamo provveduto a far scendere tutte le capre ad arzo sopra casale.